Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali segnaliamo cantieri aperti sulla stale 12 della Pettone del Brennero, tra Piano Sinatico e Dogana Nuova nei due sensi di marcia. Reduzione di carreggiata ancora una volta per cantieri anche sulla stale 3B Stiberina e 45 tra Pieve Santo Stefano Nord e Val Savignone in direzione nord. Arriviamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia in piazza Dalmazia fino a fine mese restringimenti all'intersezione con via Mariti, tutti i dettagli sui nostri canali social. Ultima pagina per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Campiglia Maritti, Maior Betello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!